Il mestiere del costumista è uno dei mestieri più belli del mondo. Ha bisogno di tanta conoscenza, bisogna imparare tante cose. Le stoffe, bisogna conoscere le tinture, bisogna conoscere i tagli, bisogna conoscere il budget, bisogna conoscere come fare uno spoglio di un copione. E ho avuto la fortuna di lavorare con grandissimi registi come Fellini, come Terry Gilliam, come Paolo Sorrentino, come l'ultimo Terence Malick che ho fatto e che è uscita fra un po' di tempo. La cosa che mi è sempre piaciuta è trasmettere la mia esperienza, trasmettere tutto il mio sapere, tutto ciò che può contribuire a formare dei nuovi costumisti. Consiglio a tutti di frequentare questo corso che è la stoffa dei sogni a Prato, l'unica città in Italia che ti offre la possibilità di vedere tanti tessuti. Prato è una città magica dove anche puoi far fare dei tessuti. Il nostro Master darà la possibilità di avere dei docenti che conoscono benissimo il mestiere e che quindi ti possono dare una preparazione che nessun altro ti può dare. Stiamo parlando di Gabriella Pescucci, stiamo parlando di Alessandro Lai. Se avete stoffa venite a frequentare il corso La Stoffa dei Sogni.